Eccoci qua per l'altro match di Losers quarterfinals fra AMJ e l'affettato Midodgemack Che sta risalendo dalla Losers dopo aver battuto il povero fraracca Che si è ritrovato nel suo percorso verso di nuovo la vetta Questo matchup... Quante volte hanno giocato assieme? La stagione mi sembra nessuna Ma si erano beccati due volte Al VGP non hanno fatto, ha vinto entrambe le volte Midodgemack 3-0 Ah si 3-2 Vabbè allora è molto più rilevante di qualunque cosa si è successo un anno fa Ottimo comunque Ottima grab qui da parte di AMJ Dice che non ha una grab ma mi sembra che ce l'ha più Ah manca la punish dopo l'up B qua E invece peccato perché sarebbe stato molto utile Ecco qui il Ka-Boom Punch Ci ho... Non lo capisce, wow Vivo Gramp run 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 No, a me piaceva giocare contro me stesso Invece si, a me piace giocare contro Zuffie Ottimo il fair da parte di MJ Ho vetto Kinder in fair Ho vetto Kinder Eh? Ah, quello si Sì, ho paura della mia cacca Ti rendi confedio a me? Sì Sto scherzando comunque Vabbè, quindi boom Tipo esploso Quindi 1-0 qua per Midori Altro commento Altro commento Siamo quindi per questo secondo game Si, butteranno Dici qualcosa Oh, Yoshi fa cose Prova a camparello Ho già da buono Ti li di appi da parte della hack E giusto Stai giocando 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 Ottimo la ferie Uovo Nooo ti prego no Eh porca putt Porca Pulizia del bagno Che non è sfatato Ha fatto molto bene No, dopo che c'è stato Il buon Dex E anche le fesmesh Dex è veramente Un'arma chimica Nel pantalone Peccato per quel vantaggio Di 6 MJ Che si è volatilizzato Così come nulla Aveva 3 Per se Outspassato Quale fesmesh Ottimo Ottimo Lash attacco Ottimo fesmesh Ottimo round kill Ottimo fesmesh Full counter Nuoce al capo Guarda come cammina Verso il bordo Che maiale Ah ma non c'aveva l'assalto E quindi è suicidato Con questa cosa Pollo insomma Cos'è Lo sapevi che i polli Già Perché Yoshi quindi Ho un pollo Sì Non è pollo Chiaramente E i polli sono scemi Quindi Maggine di quanto erano scemi Infatti Oddio Gena che dice A Max Rovinami tutto Eh Vabbè ho cambiato un pochino il tono Forse Maggine di quanto erano testone Eh Oddio Ti prego Posto Ecco il ne- Uh Era un buon tentativo A parte MJ Purtroppo Teca Qua mi dolce Non si prende le fesmesh Ottimo neutral b Ci mette ancora una fmesh Mentre esce dall'uovo Oh il ne- Interrompe Non trova il perdico In combo E guarda l'app B Che porta MJ Verso l'alto E buonissimo L'app Meshantier Da parte Del Little Mekty Di Notchmack Che ora si ritrova Con le Geo Punch Quasi pieno Ottimo Il ne- Interrompere La parte di MJ Che si salva la vita Down tilt Sei qui Up tilt Ora sta chiaramente Fisciando per la kill MJ purtroppo Ottimo Molto bello Questo setup Apro Su piattaforma E Dopo il deck Mette la Pair Ottimo Ancora l'app smash Da parte di MJ Che sempre essersi svegliato Vole mettere le botte Al Little Mek Di Milo Up B però Colpisce il povero Tinosauro blu Questa cosa che chiaramente Grave l'ins Di Yoshi Non funziona Ottimo L'app smash Da lead Nair Non riesce a trovare Il po' In più up Tra l'altro Quella è percentuale Crit spot Nair Into Fair E true Vabbè Ottimo uovo Up tilt Nooo Ok vive vive Però c'è il capo punch Col porco Di Little Mek Guarda è tosta È tosta Inizio con questa Up smash Frutta punch Da MJ Che trova soltanto Una pista Per E finalmente Trova up smash Andando Sul 2 A 1 Quindi Possibile rimonta A parte MJ Che ha deciso Che vuole rigiocare Con me Perché evidentemente È più facile Oooo 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 Sto scaldando le mani, raffreddando le mani, aereando le mani. L'unica killing game che abbiamo avuto oggi è stata quella di Gennaro che va a streamer. Voleva perché voleva giocare da solo. Sto proprio male, devo dire. Tanto... Fisturazione è... Piuttosto event... Aveva al salto, però qua... Lefe smash, ho detto un nefe smash a sua volta. Un sacco di dolore qua. E la smash, vado con quello scudo! Era nero! Era più nero del... Del... Ok. No, mi sce niente l'artista. Il nero del... Buono! Legge il deck! Dug smash! Effend smash unito con effend smash, ma mantiene il capopance. Il che è veramente molto pericoloso per il povere MJ che però trova un buono dash attack. Trova però il... Spera seguire l'uovo. Braff tilt. Che anche questo... Da un bimbo... Gridi... MJ... Che non trova infatti, ma non viene punito. Uova! Finito con un dash attack. Ha scoperto che questa mossa è rotta. Ottimo... Però non riesce ancora a trovare la kill qua. Povero MJ. Ancora lefe smash. 82% il povero di un sauro blu autistico. Ma qua è il stage B. Non riesce a tornare... A riguadagnare il centro stage. La B... Non prende, è ottimo. Infatti... Ha calcolato molto bene, sapeva che si è finita tutta la piattaforma. Ancora. Però questa volta la pere è abbastanza per uccidere. Abbiamo quasi caricato il... Stavo dicendo il limit, qualche miseria. Il capopunch. Che ammazzo, penso. Tanto il counter d'interno tech fa schifo, quindi... Il limit va anche bene. No vabbè, ok. Vuoi fare pure l'up che è più lungo. Rotto. No. Non mi... Non mi sta... Non mi sta... Non mi sta... Va bene. Va bene. Va bene. Non mi sta... Non mi sta... Non mi sta... Non mi sta... Non. Non mi sta... Non mi sta... Lec finalmente Jab Jab Abbi combo. Che... Porta al 3 a 1 in Midori Squad MNJ. Paronariandosi la luna Semi Finals. Grazie a tutti.